Centro Revisioni Florio Calandra Ben trovati dalle telecamere di Fido Ruggi TV, parliamo di atletica, parliamo della Palermo sportiva che indossa l'abito delle grandi occasioni per la finale argento dei campionati italiani in società in programma domani, sabato 18 e domenica 19 settembre allo Stadio delle Palme Vito Schifani. La manifestazione è stata presentata oggi presso la sala delle conferenze delle carrozze di Villa Niscemi a Palermo alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale turismo Mallio Messina, l'assessore comunale allo Sport Paolo Petrolia Camassa, l'ingegnere Mauro Lallocca, dirigente del Dipartimento per la pianificazione strategica della regione e Salvatore Gebbia, nella doppia veste di presidente della Fido Sicilia, lo vedete nella foto, e direttore tecnico della manifestazione. È l'edizione numero 50 dei campionati italiani di società al via 24 squadre, 12 maschili e altre tante femminili per circa 300 atleti in gara che daranno vita alle sfide del secondo raggruppamento tricolore per club. Due giorni intensi e spettacolari, si comincia domani, sabato alle ore 17 con le donne impegnate nel triplo e nel martello. Domenica si parte alle 9 del mattino con i 5.000 femminili. Niente biglietto di ingresso, l'atletica, anche quella di vertice, a Palermo per i campionati nazionali a squadre Serie Argento sarà gratuita. Per assistere alla due giorni di grandi atletica a Palermo bisognerà rispettare la normativa in vigore per le manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale, cioè gli spettatori dovranno essere muniti di Green Pass. La gara del salto con l'asta, prevista sabato alle 17, si svolgerà presso l'impianto di atletica leggera del Cus Palermo di via Altofonte, in quanto l'impianto Schifani è al momento sprovvisto della struttura. Bene, adesso vediamo in serie le interviste raccolte nel corso della conferenza stampa di oggi. Vediamo. Assolutamente sì, siamo davvero soddisfatti e molto contenti di ricevere quest'altro evento di grande prestigio che si va a incastrare in un mese di settembre e ottobre è molto importante, penso per Palermo al Sicilia Jets Festival poi la Coppa del Mondo di Vela Parolimpica e questo evento va a chiudere un cerchio importante che lega cultura, sport per allungare la stagione, per cui noi siamo fortemente convinti che la Sicilia abbia proprio bisogno di questo, non tanto lavorare d'estate ma lavorare in periodi di destagionalizzazione. Questi eventi aiutano a questo, quindi eventi di qualità che portano tanta gente e soprattutto che fanno una grande promozione del nostro territorio. Quindi siamo molto orgogliosi di aiutare e far parte di questo bellissimo evento. Evento molto importante, una grandissima contribuzione della FIDAL, una grandissima contribuzione solidale di tante realtà sportive cittadine, un appuntamento che rende onore sia all'atletica leggera sia allo sport palermitano e attorno al quale infatti lo sport palermitano è unito e pronto ad accettare questa bella sfida. Finalmente riospitiamo i campionati italiani. Si riapre, l'impianto è aperto ormai da più di un anno e mezzo, ci sono state delle difficoltà, noi siamo intervenuti in quest'ultimo periodo insieme alla collaborazione della FIDAL proprio per rimettere sostanzialmente in sesto e a nuovo l'impianto e oggi siamo in una condizione assolutamente migliorata, abbiamo le piste nuove e ci consentirà ovviamente di fruire di una manifestazione alla perfezione. Guarda, già avere la medaglia d'oro della marcia, le Olimpiadi di Tokyo, abbiamo raggiunto un grande obiettivo. Domani sera alle 20.15 ci sarà la gara dei 5.000 di marcia dove parteciperà Massimo Stano. Poi avremo altri atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi, vedi Alessia Trost, vedi Fonluso, altri atleti che hanno raggiunto le finali e le semifinali. Difficoltà tante ma abbiamo raggiunto l'obiettivo. Domani partiranno con la prima gara alle ore 17 del salto con l'asta, poi 110. Da non dimenticare ovviamente le gare dedicate a quelle che sono la FISDIR, con gli 80 metri piani e i 100 metri piani che vanno dalle ore 16 e 15 alle ore 16.25. L'ingresso è totalmente libero, ci sarà un ingresso dedicato al pubblico, ovviamente previo esibizione di quello che sarà il Green Pass, un ingresso dedicato agli atleti e un ingresso dedicato all'organizzazione dove controlleremo ovviamente Green Pass o tampone e tampone. Guarda, già ieri sono arrivati due società del CUS Parma, società maschile e femminile, una società di Varese, sono venuti allo stadio proprio ad allenarsi. In movimento sono circa 24 squadre e 20 atleti per squadra, sono circa 480-500 persone. Più è atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori, immaginate un po' qual può essere il ritorno economico per la città di Palermo. Bene, quindi una due giorni di atletica davvero molto interessante, che sarà nella nostra città davvero tante gare, ovviamente per tutti gli appassionati di questo sport, ma non solo, ci sarà davvero da assistere a delle gare molto interessanti. Quindi rinnovo l'appuntamento domani e domenica allo sede delle Palme Vito Schifani per la finale argento dei campionati italiani di società di atletica. Con questo è tutto, si chiude lo speciale dedicato all'appuntamento sportivo che ci sarà nella nostra città. Ricordo che questa produzione, come le altre, a partire dalla segna stampa delle 9, da lunedì al sabato, gli approfondimenti delle 12 e delle 18, li potete trovare, cliccare e condividere sulle nostre pagine social, Facebook ed Instagram e rivedere per intero le puntate sul nostro canale YouTube. Ringrazio Michele Dell'Oio che ha curato questo speciale, grazie e buona giornata.